Mettepise fuori da noi Mettepise sono dei youtuber che fanno video su Facebook e Youtube Come dietro? C'è scritto Sono dei ragazzi che fanno video su Facebook e Youtube Ecco A stento Ci seguono altre milioni di persone, scusate A stento scriviamo i commenti dei nostri video pensati Ma è una scrittura Il costo del libro, perché volessero comprarlo, è 14,90€ Se volete acquistarlo, potete acquistarlo alla mandatoria Il libro si presenta così Alla fine del libro, io l'ho fatto Se si apre, c'è scritto Solitamente con i libri non funziona così Ma ci proviamo lo stesso Se il libro vi è piaciuto, lasciate un commento qui sotto Fotografatelo e postatelo su Instagram O sulla nostra pagina Facebook Con l'hashtag Mettepise E questo è quello che io ho scritto Spero questo video vi sia piaciuto E lasciate, se vi è piaciuto Lasciate un like E un commento qui sotto Spero comunque che vi sia piaciuto Ci vediamo al prossimo video Il prossimo video Sono rasi quella di una recensione Che fa leggere il signore confio E verso 1 gennaio 2016 Complerò Francesco Sole Scutato con il suo foglio di carta Grazie a tutti Grazie a tutti